Un saluto a tutti da Snuggles e ben ritrovati in un nuovo video e in un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu Allora, vediamo un po', l'ultima volta abbiamo battuto il coach, il primo coach e quindi ci resta da fare tutta questa strada che è veramente piena, zeppa, di allenatori Mi stai guardando, vero? Ci dice la nostra Teenager Antonella Con un solo Pokémon però, quindi non sono combattimenti proprio impegnativissimi C'è tanto verde in questo gioco, almeno in questi punti, quindi un po' vero oscurato Andiamo di comete Andiamo di comete e tritiamo come il sale Odish Intanto vediamo che comunque i livelli, cioè siamo avanti Pikachu sarà livello 14, il nostro amato, Teenager, se ne va lasciandoci 3 Pokéball e 120 Fanta Dollari Allora, vediamo un attimino Sono qui, io li batto tutti ragazzi, gli allenatori, cioè senza pietà Perché danno soldi e danno esperienza Quindi, anche se ovviamente fanno durare anche di più Gioco di cui avverto qui oggi al terzo episodio Che durerà davvero tanto Perché ci vogliono parecchie ore per finire il gioco E poi continua, quindi a video da 20 minuti, mezz'ora Ci saranno un bel po' di video Niente male i miei pantaloncini, sono spettacolari Ci dice questo bambino Che sarebbe un marmocchio Infatti è proprio un marmocchio che si chiama Matteo Ragazzi, come mai? Ok, manda in campo Spearow Spearow E noi gli buttiamo contro il nostro Mew Il nostro Mew E andiamo Ah, vedete, se agito Pikachu dà il supporto al Pokémon Ok, questa cosa non l'avevo capita Ok, usa come mossa Perfetto Ok, ora l'ho capito, quindi magari nei combattimenti più difficili si potrà usare questa Questa skill Riceve 30 punti expo e sale anche di livello Sarà livello 14, ottimo Ottimo Ehm, vengono anche condivisi con il resto della squadra Abbiamo abbattuto Matteo il marmocchio Con 120 fantadollari e 3 Pokéball Perfetto Possiamo, possiamo Andare avanti Qui si discende solo dove stiamo prima Mi pare di aver visto E quindi andiamo a battere questa campeggiatrice Che ne dice la lotta contro il mio nuovo Pokémon Vediamo subito ragazzi Non so perché tengo le dita su Wazd della testiera Non posso rilassarmi Parte la sfida con Dino campeggiatore Vai Dino Mandaci in campo il tuo Nidoran maschio E noi gli mandiamo Mew Che ce l'abbiamo solo noi Ammiralo, ammiralo E gli diamo una bella cometata in testa Vai di comete E bam Sturato E ciao Ok Allora Direi Direi Dato che Ehm Tutte le evoluzioni di Odish Ehm Sono comunque reperibili Io direi Di andare a togliere I Nidoran e Odish Dalla squadra Ok Quindi Agitiamo E andiamo a rimuovere Odish Rimuovi dalla squadra Nidoran Rimuovi dalla squadra E anche L'altro Nidoran Andiamo a rimuovere dalla squadra Così che i nostri tre pokemon titolari Expano di più Perché sono loro Che compongono Diciamo il team Che ci porterà Che ci accompagnerà Fino alla fine Eccolo Bellissimo questo ragazzi Lo adoro Quando ero piccolo Sunslash Era il mio pokemon preferito Cioè lo adoravo Ehm Ok Lo voglio catturare Questo assolutamente E questo lo voglio trovare Anche buono Bella Sto pokemon lanciata Proprio bene Ad arte Ok Ribellati Vai Stortissima L'ho lanciata Proprio L'ho beccato Il mignolino Infatti Si è liberato Ceri quasi Ma anche no E beccati sta pokeball Ottimo Vai Daie Daie Sentiamo il verso Ok Spero l'abbiate sentito E vi è catturato Sensdryu Bellissimo Non ce l'ho neanche su Let's go Eevee Bulbasaur Sarà di livello Sarà di livello 11 E Non so qui Trovandosi qui Se Sonslash Anche più avanti Si trova Però Di tipo terra Vediamo un attimo Come c'è uscito Questo Questo Sensdryu Vediamo Che natura ci offre Una natura gentile Con difesa speciale Nah Non mi piace Difesa speciale Su Sensdryu Assolutamente Vediamo quest'altro Vediamo quest'altro Ok Ma eccellente ragazzi Cioè proprio Era più piccolo Della pokeball Il cerchietto Una roba Proprio smostrata Infatti non può Non può nulla Si arrende Al nostro Fantastico lancio Ehm Vediamo Un esemplare Femmina Ehm Vediamo un attimino Ok Ehm Niente È uscito Sfigatino Quindi niente Questi due No No ne vogliamo Oh Attenzione Attenzione Hitmon Come si chiama Hitmon Come è questo Che si chiama I monkey Monkey Ok Vai preparati Prendiamolo Stortissima Lancio proprio Schiorto E Però Si accontenta Va bene Così Va bene Così Vai A tutta Ok Ovviamente Questo Expa Questo Sanzu Dovrei Toglierli Dalla squadra Anzi Mandarli Direttamente Al professore Questi due Perché non mi Piacciono Nessuno Dei due Ehm Li possiamo Direttamente Anche spedire Invece Di far Di tenerli In squadra A expare Con noi Ehm Monkey Proprio Pure Lo togliamo Allora Ehm No Qui Ok Vai Li togliamo Dalla squadra Rimuovi Rimuovi E rimuovi Anche tu E poi Questi Li Ehm Spediamo In via Il professore Non mi piacciono Proprio Nessuno Dei due Possiamo Anche Ehm Spedire Quest'odish Ovviamente Guarda Anche questi Perché Tanto Non Si usano Basta averne uno Poi Se uno lo vuole Se lo fa Della natura Che gli pare Che gli pare Bene o male Siamo lì Quindi Prenditi anche questo Inutile avere doppioni Un pigino Spearow Ehm A posto così Invia Agitando Inviare I pokemon Selezionati Sì Grazie mille Eccoti un regalo Per ringraziarti Alcuma Protezione Rapidità Mi ha inviato 21 pokemon Ok Prendiamo più o meno Uno per tipo Ehm E va bene A posto Ehm Quindi lo vorrei Prendere Qui Un Sanjriu Non so se intanto Andare avanti Ehm Poi No Sì Si scappiamo Perché Non lo voglio Questo Ehm C'è un rat Dai Sbuca fuori Sanjriu Ehm Magari Lo posso Catturare Ah ma Proprio Ti si buttano addosso Cioè Non è che vanno Random Questo è un pokemon Aggressivo Cioè Sarà un caso Che mi è venuto Tutte le volte Addosso A 300 All'ora Sinceramente Non lo so Ci sono anche Questi Rattata Inutili Spero di averlo preso Rattata Prendiamolo La rattata Proprio La più comune Dei fili d'arba Che sono qui All'interno Della schermata Proprio Un Un rattatone Ce lo becchiamo Uno Però Penso di averlo preso Cioè Sarà stato Forse il primo Ok Solo un impiccio Da togliere Dalla squadra Che non Volevamo Vogliamolo Immediatamente No 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 Oh c'è un regalo Molla elastico Molla piccola e sottile E deformata Ormai Inutilizzabile Che bello Grazie Questo regalo Fantastico L'ho apprezzo Molto L'ho trovata Per terra Sicuramente Però Potrebano mettere Che lo Tiri via Dalla squadra Da lì Cioè Devo entrare Qua E' veramente Trista Questa cosa Cioè Della squadra Toglilo Dalla squadra Potevo farlo Dal menu Iniziale No Vabbè Facciamoci L'allenatore Qui Cercavi di Sfuggirmi No Altrimenti Passavo Dietro E lo Facevo Senza Alcun Problema Ok Dominic Picnic Girl Picnic Girl Mandano Nidora Un femmina Ok Vai Let's go Mi ho un conto Su di te Tira una bella Cometata Lotta Cometa Let's go E ciao Come vedi Non c'era alcun Bisogno di sfuggirti Perché sei easy Picnic Girl E 140 Fanta dollari Con due Megaball Due megaball Attenzione E qui Questo ratta Da fuori Dall'erbaccia Cosa ci faceva Via Via Allora Devo dire Devo dire Che è molto Molto Tranquillo Questo Questo sistema Un po' La pokemon go Che hanno messo Per 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 Expare Fare combattimenti Perché tipo Sul Un profumo invito Sul game boy Ogni pokemon Andava Combattuto E quindi Finire Dei percorsi Così L'incontro casuale Per evitarlo Certe volte Non riuscivi a fuggire Ti colpiva Era lente Lento E massacrante Riuscire Ad avanzare E riuscire a fare Expare i pokemon Che dovevi mettere Prima Poi cambiare Pokemon Ucciderlo Combattere Uccidere il pokemon Con un altro Pokemon Quindi si dovevano Dividere i punti In due Era una cosa Massacrante Mentre Così Diciamo Che L'unica cosa Un po' brutta Che se vuoi Expare uno Solo Devi Praticamente Tenerti un pokemon Solo in squadra Mentre gli bastava Farlo lottare Era l'unico lato Buono Quello Facevi lottare Solo un pokemon Saliva Solo quello A manetta Mentre qui Dividendoselo Se vuoi proprio Exparne uno Devi toglierli Tutti dalla squadra Solo questo Intanto abbiamo Battuto questo Pigliamosche Con tre pokeball E 60 fantadollari Questo qui sopra Il marmocchio Non l'ho evitato È stata una Semplice casualità Non ce l'hanno Questi pantaloncini Proprio Sono ossessionati Quindi Andiamo Come detto Era un percorso Pieno zeppo Di allenatori Un percorso Di mezzo Se c'è una cosa Ragazzi Che odio davvero Pokemon Gameboy Qui Sono le grotte Le grotte Ragazzi Proprio Non Non le reggo Intanto il gatto Che sta qui A trollarmi Giro lì Tiro una pokeball Ragazzi Da nemico Perisce Sotto la botta Allucinante Del mio Mew Che è ancora In una fase Imbrionale Non ha mosse Potenti E quindi Ci limitiamo A questo E Andiamo Andiamo Cosa c'è Qui Vediamo Oh Attenzione Mi ha trovato qualcosa Nel cespuglio Vediamo Lasciamolo fare Vediamo Cosa ci da Ci da Maggiore Vegetazione Una Baccabana Di Mew Ho messo Una tasca Cattura Ok Ok Eccolo Un Senju Dai Speriamo Un senju Buono Ho Interrotto La combo Cattura Sono stato Stupio Perché Me ne sono Dimenticato Delle Combo Cattura Eccellente Ragazzi Il cerchietto Era sparito Sparito Non dico altro Sparito Eppure Eppure Si è ribellato Magari è forte Vediamo Invece adesso Non ho fatto in tempo Maledizione Maledizione Però l'abbiamo catturato Eccellente Non gli è andato bene Mentre Il secondo tentativo Si Vediamo Un po' Vediamo un po' Ehm Sato aggiunto Alla tua squadra Va bene Mica ce n'è un altro Ok Un revitalizzante Un revitalizzante Uno spiro Non ci serve A nulla Eccone un altro Perfetto E' spawnato Proprio avanti a noi Proviamo a prendere Anche questo Vai Ottimo Ottimo E vediamo un po' Niente Si è liberato Andiamo col secondo Tentativo Vai Sul piede Grazie Ho preso Proprio il piede pieno E infatti Forse neanche L'ho colpito Cioè proprio No E' sfuggito Questo era forte Ne sono sicuro Maledizione Stai lontano Da me E tu Dai Spona Un altro Sono cinque secondi Vediamo se spona Dai Dai Oh se ne è volato via Meno male Ve lo spiro Sono soratta Piccolino Sfugge Nell'erba Un altro E' pieno Ragazzi Sto venendo Un assalto Di ratti Quindi Oh no Vedi Questo qui E' proprio E' proprio In carognito Cioè Ti viene addosso Proprio E' un pokemon Bastanza Incazzoso Allora Vediamo un po' E' niente Ragazzi Sono sicuro Di aver perso Quel sanjiru Che era tanta roba E' spanato sotto i piedi Io non l'ho visto Perché lo volevo Sanjiru Dai Uno buono Tu Sto per usare Il profumo Per trovarli E' veramente Incredibile Perché poi ci dovrò Tornare Se lo voglio Vabbè Magari Si farà Si farà Più avanti Quando non Spoilero Non spoilero Le abilità Future Ma Ci si potrà Comunque Tornare Rapidamente Vabbè Che dobbiamo fare Andiamo avanti Se no Ci siamo qua Tutto il giorno Ah monkey E' cattivissimo No 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 Stai lontano Ah lui Carica Un po' Randomatico Però Può essere Che ti becca Forse Perché Finora Mi ha proprio Caricato Come un pazzo Forse se gli stai vicino In un range Ti aggredisce Vabbè Non è Invece questo Non ci è venuto addosso Quindi siamo stati Semplicemente Sfortunati Meglio riposarsi un po' Che stanchezza Farsi tutto il tunnel Di Cerestopoli Con una faticaccia Ok Eccolo Un altro E qui E qui Allora un buon vecchio coach Che ne dici Di un po' Di sano allenamento Prima di scalare Il monte luna Ci sto Ci sto Perché Exp Importante E Prima di arrivare Al monte luna Che affronteremo Nel prossimo episodio Preferisco Non fare episodi Infiniti Perché Veramente Poi Si Diventano Lunghissimi Quindi facciamo a pezzi Di Di mappa Intanto Ragazzi Un mute Un mute Un mute Che è il pokemon Del team rocket Pure Comete Comete Vai Un'un po' Se è efficace Non troppo Non troppo Forse qui era meglio Botta Perché effettivamente Questo è un pokemon Forse comete Ce l'ha pure lui Ok Sono monete ovunque No Ho sbagliato Dovevo mettere Maledizione Altre comete Vabbè Anche perché È un mute È un mute Livello 13 Mute Livello 13 Meot Realmente è un nome Indecifrabile Meot Meot Ok Allora Diamogli una botta Anche se ormai Andava bene Precomete Però Comunque Ah invece Questo è ancora meno Efficace Perché andava lentissimo Quindi Meglio comete Tra le due Meglio comete Il mio Sarà il livello 15 Ok Conti esperienza Vengono condivisi E va bene Così 1.300 Mi dispiace Mi dispiace per quel Sanjiru Che se ne è scappato Perché È stata una bella Lotta Prendi questo Per ringraziarti La metti 57 Giorno paga Che una volta Contiene Giorno paga Questa mossa Sparge Sparge in giro Delle monete Che potrà raccogliere Dopo la lotta Quindi Usandola Ci dà Più Soldi Allora Fune di fuga Che ovviamente Non useremo Però che ci permette Di Nel caso non lo sappiate Uscire da una grotta E tornare all'ingresso Insomma Usandola Mi sono fatto Tutta la strada Fino al monte luna Apposta Per salire in groppa Un pokemon A quanto pare Ci sono un pokemon Come onyx Che si lasciano cavalcare Per andare più veloce Ahia Sono incappato In un geodude Si è fatta male al piede Ok Qui non ci sono sfere Vediamo di qua Ci stiamo perdendo qualcosa No Possiamo quindi Entrare qui E curare i nostri pokemon Il peo sbagliato Ovviamente Quando mai Vai Cura 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 tranquillamente E Vediamo un attimo Chi c'è qui dentro Se ci possono Dare qualcosa Non abbiamo visto Mi pare La natura Del Senju che invece Abbiamo catturato Magari Non è poi così malaccio Vediamolo un po' Vediamolo un po' Info Calma Ah Più difese speciali Ma che è Quello di prima Uguale Sta natura calma E popolare Vabbè Togliamolo dal team Togliamolo Allora Rimuovi dalla squadra Ok Natura calma Non serve a nulla Sapevi che puoi tenere nel box Della borse pokemon Che non puoi aggiungere Alla tua squadra E quando ne è davvero tanti Puoi usare la funzione di ricerca Per trovare il pokemon Che ti interessa Comodo no? Si lo sapevamo E allora Ciao ragazzino Avrò un'offerta esclusiva per te Ti do un magikarp Bello grosso Per soli 500 Fantadollari Che ne dici? Allora Ehm Francamente Di un magikarp Se ne troveranno Appalate Più avanti Quindi Buttare 500 Per un magikarp Stavo solo cercando Di farti un favore Quando poi Si trova in giro Anche geridos Quando arriviamo Nella zona In basso a sinistra Di questa mappa Che vedete Casualmente qui I geridos Sono rari Ma si trovano Già evoluti Quindi Fai attenzione Al cerchio che compare Sotto un pokemon Quando provi a catturarlo Se il cerchio è verde Riuscirà facilmente Se il giallo Farai un po' fatica Se il rosso Sarà difficilissimo E va bene L'avamo intuito Quando Jigglypuff Canta I pokemon Si addormentano E anche io YAM A posto Inutile Vediamo sto Bimbo Che cosa ci dice Nella cintura Ho messo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokeball Possono avere Massimo 6 pokeball In squadra Anche se il box Ce ne sono di più Va bene Guarda Non l'abbiamo capito L'ha sfuggito E quindi Entriamo Ragazzi Ma c'è un mio Che dorme Lì sopra Questa cosa Non l'avevo vista Comunque Non ci avevo fatto caso Bellissimo Ok Ed ecco Monteluna Un Geodude Ragazzi Ce lo prendiamo subito Perché non ce l'abbiamo E' anche grande Quindi Geodude Selvato Io lancio la bocca All'interno del cerchio colorato Per ottenere un bonus Di bel tiro Ma perché finora Cosa abbiamo fatto Più piccolo del centro Cioè Che consiglio è Perché finora Cosa abbiamo fatto Ce lo dovevi dire Questo è stato un lancio Un po' flush Effettivamente Vai Vabbè Ma l'ho lanciata bene Però Dai Su Dieci pokeball Ottimo Meno male La decima pokeball Per pigliare Un Geodude Va bene Va bene Meglio prenderlo Che non prenderlo Ok Sale Pikachu E Bulbasaur Ottimo Va bene Facciamo dimenticare Se mi sclicco Ragazzi Una mossa importante E' Tuononda Lo mettiamo al posto Di doppio team Non ci interessa La capacità di illusione Ta da Dimentica doppio team Adesso posso imparare Tuononda Che paralizza Quindi Una mossa veramente buona Soprattutto contro I pokemon Più tosti Gli allenatori Di livello superiore Anche se Fino alla Lega Pokemon Diciamo che Facendo tutti gli allenatori Catturando Si va tranquilli Insomma Si sta sempre sopra Il livello medio Intanto il team rocket Ragazzi Per chiudere Questo episodio Il team rocket Qui non c'è nulla Cerchiamo più in là Ehi tu Che fai Ci stai spiando Una spia Da Mews Che sta combinando Non doveva stare Di guardia Ah che sta a dormire sopra E' quello loro Ok Che sta a dormire sulla porta Eccolo che arriva Siamo venuti a sapere Per questo episodio E' tutto In modo tale Che nel prossimo episodio Ci andremo ad affrontare Questa grotta Che poi non è così lunga E a vedere Che cosa ci aspetta All'uscita Di questa grotta Quindi Per questo episodio E' tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Un commento Fatemi sapere che cosa ne pensate Con il gatto Che scassa Come sempre Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao